Fra le varie azioni intraprese dal Fondo Welfare e Identità Territoriale per offrire un supporto alla popolazione bellunese colpita dalla tempesta Vaia, vi è anche quella dedicata ad un sostegno psicologico grazie all'accordo sottoscritto con Sani in Veneto. Già a pochi giorni dalla pubblicizzazione di questa possibilità alcuni comuni ci hanno chiesto informazioni soprattutto per la parte formativa. La cosa interessante è che nel chiedere informazioni molti ci hanno condiviso il fatto che anche questi ultimi eventi atmosferici in qualche modo hanno risvegliato nella popolazione un trauma, un disagio che non si era ancora risolto da Vaia. Mi piace molto vedere proprio come questi sindaci abbiano poi cercato in questo modo di poter aiutare la popolazione attraverso coloro che poi devono prendersi cura delle famiglie e delle persone quando accadono questi eventi. Quindi questa è stata una sensibilità molto importante. Il cittadino come può accedere a tale servizio? Per la formazione è sufficiente che il sindaco o chi per lui contatti me, contatti il fondo e che quindi faccia presente questo desiderio e noi li mettiamo in contatto con l'organizzazione di psicologi che dà questo contributo gratuito per tutti i comuni attraverso San Inveneto. Nel caso ci fosse una famiglia, un gruppo che ancora sente questa problematica forte, magari anche ancora come strascico di Vaia, può sempre rifarsi all'amministrazione e il sindaco o chi per lui si farà avanti con noi. Differenti le possibili tipologie di intervento? Questo è proprio insomma del sapere dello psicologo esperto in psicologia dell'emergenza che nel momento in cui arriverà si occuperà un conto all'aspetto psicoeducazionale, un conto su ogni gruppo di debriefing. Ecco ci sono diversi strumenti che la psicologia dell'emergenza ha nella sua borsa e quindi li utilizzerà a seconda del problema sia attuale sia lontano e a seconda delle fragilità che incontra e anche dell'età ovviamente di chi lo richiede.